Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 126. Ricordo così bene quella volta all'ospedale di Brompton. Ero stato chiamato per pregare per un bambino di nome Craig e dare sostegno alla mamma Vivienne. Vivienne aveva tre figli ed era incinta di un quarto. Il suo terzo figlio, Craig, di 18 mesi, aveva un difetto al cuore. Era stato operato, ma l'operazione non era andata bene. I dottori avevano detto che non c'era più niente da fare. Per tre volte le avevano proposto di staccare il respiratore e di lasciarlo morire. Ma prima di farlo, Vivienne voleva provare un'ultima cosa. Voleva chiedere a qualcuno di pregare per lui. Ed ecco perché ero stato chiamato. Entrai nella stanza. Craig era pieno di tubi. Il suo corpicino era gonfio e pieno di lividi. I medici avevano detto che anche se si fosse ripreso, avrebbe avuto danni cerebrali per tutta la vita. Il suo cuore si era fermato per troppo a lungo. In quel momento Vivienne mi confidò di non credere in Dio, ma mi disse, puoi pregare per lui. Pregai per Craig nel nome di Gesù perché fosse guarito. Poi parlai con Vivienne di Dio e in quel momento lei decise di dare la sua vita a Gesù Cristo. Due giorni dopo tornai in ospedale. Mi corse incontro con il viso pieno di gioia e mi disse, «Ho cercato di mettermi in contatto con te. È successo qualcosa di straordinario. Dopo che hai pregato, Craig è migliorato. E ora è guarito». Nel giro di pochi giorni, Craig tornò a casa. Vivienne fece il giro di tutti i parenti e amici dicendo, «Non credevo, ma ora credo». Avevamo assistito a qualcosa di straordinario, una guarigione sorprendente. È stato trent'anni fa. In tutti questi anni sono rimasto in contatto con la famiglia. Quello di Craig non è stato un effetto placebo, di autosuggestione o il potere del pensiero positivo. Craig era solo un bambino. È stata una risposta a misura di Dio, data ad una preghiera a misura di Dio. Commento ai sapienziali. Pregare per la misericordia. Hai mai chiesto a Dio misericordia? Forse sì, e anche molte volte. Davide si rivolge a Dio l'Altissimo, grida, «Pietà di me, o Dio». C'è una preghiera a cui Dio risponde sempre. Una preghiera di misericordia a misura di Dio. È la preghiera di richiesta di perdono attraverso Gesù. Attraverso la sua morte in croce, Gesù ha reso possibile che «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». Davide si rivolge a Dio con questa preghiera di grazia, probabilmente da un rifugio durante la sua fuga da Saul. Si rivolge a Dio e Dio lo ascolta e risponde alla sua preghiera. Davide dice, «Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che fa tutto per me». Davide sa che Dio ha uno scopo per la sua vita e che lo avrebbe portato a compimento. Dio ha uno scopo grande anche per te, uno scopo a misura di Dio. Per questo, come Davide, siamo chiamati a rispondere alla chiamata di Dio e a obbedire a ciò che ci dice. Dio risponde alle preghiere a misura di Dio. «Mandi dal cielo a salvarmi». Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà. «Signore, grazie per il tuo amore e per la tua fedeltà. La mia anima desidera rifugiarsi all'ombra delle tue ali». Commento al Nuovo Testamento. Pregare per la guarigione. Ci sono momenti nella nostra vita in cui sentiamo disperatamente il bisogno di guarigione, per altre persone o per noi stessi. In questa vita, le nostre preghiere di guarigione non hanno sempre risposta. La preghiera senza risposta non è facile da accettare. A volte ci troviamo a lottare contro questo ed è una lotta difficile e dolorosa. Ma a volte Dio interviene miracolosamente e guarisce. In questo brano troviamo due esempi entrambi avvenuti in seguito a preghiera a misura di Dio. 1. Guarigione per gli altri Il funzionario del re si reca da Gesù e lo prega di guarire suo figlio che stava per morire. Gesù risponde «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Ma il funzionario del re non si arrende e dice «Scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù risponde alla fede di quell'uomo. Quell'uomo crede che la presenza di Gesù possa guarire suo figlio. Ma Gesù gli chiede qualcosa di più, un passo di fede in più. Gli chiede di credere che le sue parole avrebbero guarito suo figlio anche a distanza. L'uomo crede e Gesù compie il miracolo. Risponde ad una preghiera a misura di Dio e come effetto tutta la sua famiglia inizia a credere. 2. Guarigione per noi stessi Gesù si reca in un luogo nel quale erano presenti molte persone disabili, infermi, ciechi, soppi e paralitici. Secondo la cultura dell'epoca, la disabilità era vista come una punizione di Dio. Queste persone si nascondevano. Ma Dio sceglie i deboli e gli stolti del mondo per confondere i sapienti. Gesù guarisce un uomo che era malato da 38 anni. L'uomo era disperato. La sua speranza era nei poteri curativi delle acque di Bet-Satà che periodicamente ribollevano. Si pensava che la prima persona che fosse entrata dopo che le acque avevano iniziato a ribollire sarebbe stata guarita. Ma non c'era nessuno disposto ad aiutarlo ad entrare per primo. Non aveva amici né parenti stretti. Nessuno si prendeva cura di lui. Era solo e abbandonato. Nessuno lo amava tranne Gesù. Gesù gli dice «Vuoi guarire?» Per 38 anni quell'uomo aveva imparato a sopravvivere con la sua disabilità. Ora deve alzarsi, fare scelte, trovare nuovi amici, trovare lavoro e diventare responsabile della sua vita. Riguardo alle parole di Gesù, Joyce Meyer ha detto «A quell'uomo Gesù ha detto smettila di mentire a te stesso. Fai qualcosa. Per 15 anni sono stata abusata sessualmente e costretta a crescere in un ambiente terrificante. Un'esperienza difficile che mi ha lasciata senza fiducia e piena di vergogna. Volevo avere cose belle nella vita, ma il tormento emotivo e la disperazione mi tenevano bloccata. Come con quell'uomo in Giovanni 5, con me Gesù non si è fermato alla mia commiserazione. Con me è stato molto amorevole, ma anche molto duro. Non ha lasciato che mi abbandonassi all'autocommiserazione e questo è stato un punto di svolta nella mia vita. Ora non sono più nella fossa e ho una vita fantastica. Se direi di no all'autocommiserazione, guarderai Dio con positività e farai ciò che ti indicherà, anche tu potrai avere una vita fantastica. Su questo argomento l'amico Pete Grigg ha scritto un ottimo libro dal titolo God on Mute. Grazie, Signore, per aver ascoltato le nostre preghiere di guarigione per noi stessi e per gli altri. Oggi desidero innalzare la mia preghiera come un grido e chiedere la guarigione per commento all'Antico Testamento pregare per la leadership Tutto dipende dalla leadership. Se un'azienda è ben gestita, tutto cresce e tende ad andare bene. Se una chiesa è ben guidata, di solito fiorisce. Se una nazione è ben governata, molto spesso prospera. Gli israeliti gridano al Signore perché Yabin da vent'anni le opprimeva duramente. anche la madre del capo del suo esercito, Sisera, dietro alla finestra si affaccia e si lamenta. Nell'aspettare che il figlio tornasse, grida «Certo, han trovato bottino, stan facendo le parti, una fanciulla, due fanciulle per ogni uomo». Un accenno questo a come Sisera trattava il popolo di Dio. In risposta alla loro preghiera a misura di Dio, il Signore suscita una leader eccezionale. Deborah è sia guida spirituale, una profetessa, che leader politico. Era giudice di Israele una donna, una profetessa, Deborah. È una leader carismatica la cui presenza è così apprezzata che Barak le dice «Se vieni anche tu con me, andrò, ma se non vieni, non andrò». Sarà poi un'altra donna, Giaele, a metter fine all'oppressione di Israele. Sia le donne che gli uomini possono diventare leader eccezionali. Ciò che conta non è il sesso, ma che guidino in modo efficace. Ci furono capi in Israele per assumere il comando. Ci furono volontari per arruolarsi in massa. Benedite il Signore! Deborah e Barak danno gloria a Dio. Ancora una volta, Joyce Meyer sottolinea che Dio sceglie di usare e favorire coloro che sanno di non essere niente senza di Lui e che gli danno la gloria e il merito di tutte le loro realizzazioni. Ogni volta che hai successo nella tua vita, ricordati di rendere gloria a Dio. Il modo in cui Dio risponde alla preghiera del suo popolo è suscitando una leadership sapiente e umile. Così facendo, la terra rimase tranquilla per 40 anni. Deborah prega perché coloro che amano il Signore siano come il sole quando sorge con tutto lo splendore, capaci di portare calore ed energia, forti, audaci e senza paura. Signore, oggi ti prego per essere come il sole quando sorge nella sua forza. Fa che io possa portare la luce in un mondo oscuro e mostrarla a coloro che incontrerò lungo la mia strada.